come notavamo prima nella chat nonostante sia agosto abbiamo toccato di 31 partecipanti 32 quindi direi che l'export non va in vacanza ben venga allora sì infatti tra l'altro partiamo giusto da questa domanda questa web in agosto allora qualcuno ha votato che questo è l'ultimo e basta c'è una persona mi dispiace ci vediamo a settembre poi c'è qualcuno che è addicting quindi lo fa in qualsiasi mese ma diciamo che c'è la maggioranza che dice che effettivamente è un momento propizio quindi mi fa piacere che siamo riusciti a organizzare e ad avere una buona partecipazione perché anche io ho votato la 2 è un momento propizio questo vale anche per me sempre per fare una carriata su chi siamo abbiamo circa un quarto dei partecipanti di quelli che hanno votato al sondaggio che sono alla prima presenza benvenuti ancora maggioranza di consulenti stragrande maggioranza di consulenti come potete vedere pensando già alla proseguizione in agosto vi faccio vedere questo che vedete che la settimana prossima se ci siamo e ci saremo ci sarà già una buona buona base di partecipanti poi andrei a vedere questa domanda anzi questa qui questa qui poi dopo partiamo con le domande competenze interculturali quali affermazioni condividi maggiormente e allora io avevo volutamente messo una po' provocatoria dell'italiano self-made che si arrangia vedo che nessuno ha votato quella quella e quindi io ho voto e il resto pratica divisa diciamo che ovviamente noi siamo un'associazione di consulenti quindi l'invito ad appoggiarsi ai professionisti ovviamente è marcato ma non è così netta non è così netta quindi la vedo il senso di grande valore all'acquisizione di competenze interne quindi attraverso dei percorsi informativi che appunto possono far crescere le competenze io adesso mi fermerei qua e già sotto qua c'è anche un paio di domande ma tu marco se ne hai già selezionato alcune ti lascio la parola altrimenti partiamo da queste direi di partire da quelle lì io avevo presenti qualcun'altra altre ma partiamo da quello che c'è nel vai saverio se la vedi qui quanto è rischioso per chi parte da zero quali sono gli errori più comuni avete rilevato più comuni e chi si apre l'export la prima volta sì saverio vuoi rispondere tu questa è la mia allora ti apro saverio grazie ecco allora volevo anche aggiungere se mi è consentito sempre per stimolare il dibattito sulla comunicazione interculturale allora io ho avuto nella mia lunga carriera di venditore i successi e successi perché dire che soltanto migliore è impossibile poi se fossi migliore sai che noia allora in realtà la comunicazione interculturale è una di quelle competenze che ogni tanto arriva come una moda come le pacche di gogi cioè se non le prendevi avevi 12 ore di vita no in realtà c'è un'attenzione maggiore verso la comunicazione interculturale io andando in giro per il mondo grazie alla comunicazione interculturale ho avuto grandi relazioni a parte che sono laureato in relazioni pubbliche quindi so cosa vuol dire creare una relazione ma vi posso dire una cosa e qui lo dico e qui lo nego che io ho fatto anche l'esame a ca foscari per diventare il mediatore culturale e ci sono passato non tanto per i due corsi che ho fatto presso ca foscari ma proprio per l'esperienza e soprattutto si parla molto di economia digitale di expo digitale laddove la comunicazione interculturale avviene e deve essere presa con maggior attenzione perché è vero che nella parte analogica possiamo sbagliare a dare il biglietto da vita possiamo guardare con gli occhi con qualcuno oppure no ma la comunicazione interculturale con i suoi valori subliminali nell'economia digitale crea maggiormente misalti perché se di fronte ad una persona sbagli a dare ad utilizzare un dress code o un body language puoi sbagliare una volta mi recuperi ma quando sei sull'internet e sbagli una volta sbagliato verso tutti rispondo molto volentieri alle domande perché c'era visto prima in chat una domanda del collega che diceva il modello di business quando si va all'estate avesse cambiato allora qualche tempo fa c'era un modo per si diceva che e questo è sempre vero che il modello domestico cioè la vendita italiana non può e qui faccio il dotto e chiedo scusa siccate semplicità buttata sull'estero va cambiato in modo quasi radicare l'atteggiamento perché perché gli scenari di comunicazione di atteggiamento di dialogo sono completamente diversi un esempio per far capire in italia facciamo lo sconto mille sconto del 50 per cento poi se c'è il sole alle 5 del pomeriggio ti faccio un 2 per cento questa dinamica di scontistica per esempio in tutto il mondo non viene non viene letta non viene capita perché io una cosa ho imparato quando andavo all'inizio andavo a vendere dove dicevo allo svedese ti faccio lo sconto del 50 più 2 3 per 8 in fila per 2 44 gatti lo svedese mi diceva ma quando finisce la catena di sant'antonio in alcune culture vuole il prezzo netto chiaro e subito declinato con i valori il fatto che il prezzo per esempio quando si comunica si comunica all'inizio della trattativa o alla fine della trattativa se io vado in arabia in arabia la prima cosa che mi chiede un arabo è quanto costa ma è normale comunicazione interculturale perché la trattativa la valenza trattativa fondamentale un manager che non vuole non riesce a trattare una nullità nella sua business community un tedesco il prezzo non potrai mai dire dopo prima perché lui devo sapere prima il valore il valore che vi dicevo prima questo valore questo prezzo questo prodotto a questi valori a queste benefici caratteristiche c'è bisogna cambiare perché abbiamo nel mondo circa 220 mercati molte sono aggregati per caratteristiche molti altri sono diversi l'uno dall'altro per barriere culturali per barriere doganali per barriere geopolitiche per barriere economiche e quindi per esempio se noi dialoghiamo in euro ma quando andiamo a parlare in euro con qualcuno riusciamo ad individuare il rischio cambio il discorso di rischio che vi dicevo perché non tutti hanno una abilità a comprendere ma maneggiare il rischio perché noi per esempio facciamo se andiamo in russia diciamo che un euro vale a tot rubli ma se invece andiamo in russia i rubli sono tot euro e sono completamente diversi se non partiamo preparati noi in realtà possiamo e trovarci in difficoltà quindi un quello che si raccontava giovanni e quello che affermavo io è proprio questo prendere consapevolezza che dal processo domestico si è necessariamente abituati ad andare sul letto e con l'economia digitale possiamo fare molte più cose rispetto ad un passato quindi perché se per esempio noi vogliamo vendere la pizza in germania possiamo attivarci sui social e vendiamo le pizza anche in italia però andando all'estero bisogna avere un'ottica completamente diversa e la formazione o la consulenza di noi che abbiamo una certa esperienza serve proprio per indirizzare su questo e un'altra domanda che ha sì scusa avevo visto prova rispondere a questa domanda scusami giovanni ma di cosa siamo qui insieme a partecipare e se tutta l'azienda deve essere coinvolta nell'export allo stesso modo tutta l'azienda deve essere coinvolta nelle altre funzioni non si corre il rischio di un tutti sanno un po di tutto tipica di molte piccole imprese allora il mio intervento ovviamente non voleva dire tutti facciamo tutto cioè da tutti sanno tutto a tutti fanno tutto secondo me sono cose diverse non è corretto neanche tutti sanno tutto questo immagino che ci sono delle cose che devo anche per un studio di riservatezza di efficacia tempestività devo circolare in specifici ambiti e il mio invito anche se vogliamo un po provocatorio era quello di favorire comunque gli interscabili perché a volte è capitato da esperienza diretta in impresa o da consulente di vedere contesti nei quali appunto sembrava di lavorare a compartimenti stagli e quindi non credo che il risultato sia matematicamente un abbassamento diciamo della professionalità quindi nel fare tante cose e adesso fare peggio tutte ovviamente un titolare di una funzione sa fare bene quella è in organigramma per quello e si occupa di quello quando opera da sostituto su altre funzioni non sarà rapido nella stessa maniera non sarà completato nella stessa maniera non avrà l'attenzione tra di tutto quindi potremmo dire corriamo il rischio che abbassi la prestazione però tutti sanno che è un sostituto cioè lo sa il cliente lo sanno il collaboratore tutti sanno che quello è un sostituto non è il titolare della funzione per cui è una questione non voglio dire emergenziale ma è un'alternativa è un'alternativa aspettare come diceva prima lorenzo faccio l'offerta non me la fanno devo aspettare tre settimane quando ria o due settimane quelle che sono invece è un'alternativa che può essere anche particolarmente efficace quindi se vogliamo è un po provocatore ma la mia esperienza diretta fa sì che questo si può fare questo si può fare è chiaro che devi formare le persone aperte a imparare più cose e svolgere più cose anche contemporaneamente posso aggiungere una cosa a tuo sostegno domani grazie allora io da anni sposo una teoria che le competenze devono essere distribuite in maniera di base ma abbastanza approfondite su tutte le competenze infatti quando io parlavo di famiglie di competenza vuol dire che ci sono degli ambiti dove quasi uno o due risorse qui il concetto del sostituto è fondamentale perché se manca uno l'azienda sia zero se sono in due si alternano che sono a loro volta i piccoli consulenti interni un esempio pratico perché la pratica funziona sempre di tutti lettere di credito io sono 30 anni che formo le persone sulle lette di credito o su Gincotemps l'esempio è lo stesso in questi corsi avrò visto siano tre volte i famosi commerciali perché secondo l'impresa la letta di credito è dell'amministrazione ma dopo che hai fatto il corso all'amministrazione le ragazze dicono ma perché non sono di commerciali? è questo che mi fa un po' addarviare perché io dico una cosa all'impresa quando il cliente col tuo commerciale va praticamente a trattare il prezzo e quando in pratica la letta di credito la devi saper comunicare perché tutte le competenze si comunicano perché il prezzo non si fa lo si comunica allora se il cliente ti risponde per esempio che il prezzo è too expensive cioè troppo caro non gli puoi dire mi dispiace ti ho fatto bene allora se partiamo dal commerciale che ha una formazione di base dove sa cosa è una letta di credito sa come funziona quali sono i rischi quali sono i vantaggi se il cliente ti accetta la letta di credito poi la stessa letta di credito può farla un'altra persona all'interno la gestione operativa i documenti il certificato d'origine la qualità di carico e poi praticamente c'è l'amministrazione che negozierà con la banca le migliori condizioni sapendo che la letta di credito si può smobilizzare e quindi monetizzare completamente oppure per esempio se il commerciale su un aereo che deve dire devo andare a vendere in Kenya prova a sentire la banca se mi conferma una letta di credito e la seconda persona l'amministrazione fa un studio presso la banca e comunica per email se la letta di credito può essere confermata a quale condizione oppure no questo piccolo esempio per farvi capire come un processo può essere lì ma se in linea teorica non c'è possibilità al cliente di dare una letta di credito allora come dice giustamente Giovanni e qui sposo la teoria le competenze interna trova delle alternative qualcuno chiama la CIMES per fare un credito qualcuno sente alla banca per capire se la letta di credito può essere fatta confermata oppure no eccetera e quindi in realtà questo è un'evoluzione perché si si presenta di fronte ai clienti preparati e no come è successo tre mesi fa dove in un'azienda non ha il commerciale ha rifiutato la formazione perché se va tutto quando è andato a Singapore il cliente ha detto bene i prodotti mi piacciono ti pagherò con una stand by electrocredit e questo qua ha detto no non voglio la stand by electrocredit la ragazza sua collega che l'ha fatta la formazione gli ha riempito di male parole perché in realtà questo signore nella sua sapienza ha ignorato un pagamento con una garanzia bancaria scusatemi se è poco allora scusa Marco ma è tu no no volevo solo fare un'osservazione su uno dei messaggi che c'era nella chat che diceva ma noi uno dei nostri partecipanti dice io ho lavorato lavoro con aziende che hanno 7 10 milioni di euro di fatturato anno però normalmente non 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 c'è una gestione reale di un back office quindi non c'è questa suddivisione dei ruoli quindi di fatto tutte le trattative immagino vengono gestite dalla parte commerciale poi il cliente che chiama quando il commerciale non è impegnato semplicemente non riceve risposta ora la domanda è ma aziende anche non non propriamente piccole che hanno questa non suddivisione dei ruoli quanto si giocano o quanto non fare una ripartizione delle attività come ci hai mostrato a te Giovanni nella tua azienda non fare una ripartizione dei ruoli e quindi anche una una copertura nel caso di necessità di mail di richieste un presidio delle attività da parte dei clienti o delle problematiche da parte dei clienti quanto si rischiano rischiano di giocarsi opportunità o il cliente quanto può essere dannoso per l'impresa non gestire alcune funzioni come può essere back office come può essere la gestione dei che tutte le funzioni sappiano cosa vuol dire pagare con una lettera di credito come quanto può essere la gestione di altre problematiche che possono essere interne nell'azienda la non ripartizione dei ruoli e della presidio soprattutto quanto può essere critica non su un ordine ma poi della continuità del riordine da parte dei clienti credo che possa essere una domanda che vale per entrambi ma allora dico qualcosa che io a riguardo ma dunque sicuramente e poi se vogliamo se possiamo agganciare anche al commento di Giuseppina che parlava di tante realtà one man show o two man show certo sicuramente avere l'apertura mentale la consapevolezza di capire di assegnare specifiche mansioni a specifiche persone e capire qual è la distinzione tra chi fa back office e chi è operativo propositivo sul mercato viaggi trattative telefonate propositivo sul mercato quindi la figura attiva e non passiva il back office ti fa immaginare più la figura che processa quello che gli arriva non è che va a generare del nuovo eh questa è un po' cioè non solo una questione di attitudine dell'azienda ma proprio anche come vuole gestire e proporre sul mercato tutti quanti conosciamo realtà appunto che stanno sulla cresta dell'onda che governano anche l'onda e la padroneggiano e altri che sono appunto in bali ed è un credo che assegnare anche in realtà piccole magari anche più funzioni di andare la stessa persona ma che si sa che quella persona in questo momento sta svolgendo un ruolo o magari a pomeriggio ne svolge un'altra ancora credo che aiuti perché comunque favorisce la comprensione delle competenze favorisce quando deve intervenire uno e quando deve intervenire l'altro e perché? Perché può anche essere, a me è capitato in passato anche di ricoprire più ruoli di dirigere più uffici mi sono trovato in conflitto personale quindi avevo più responsabilità che confussevano tra di loro però questa consapevolezza di rendersi conto dicendo ma se ragiono con questo cappello dovrei andare a sinistra se ragiono con l'altro cappello forse dovrei andare un po' più dritto o un po' più destra questa consapevolezza forse non è facile che ce l'abbia tutto il personale dell'azienda però sicuramente chi è al contatto diretto con la clientela soprattutto la clientela lontana con il quale poi magari è anche difficile comunicare per motivi di cultura, tutto quanto beh bisogna che questa consapevolezza a un certo punto ci sia quindi capisco un periodo diciamo di avviamento ma questa competenza deve essere fatta qualcuno prima scriveva bisogna che le aziende capiscano che il lavoro va fatto da chi lo sa fare quindi o lo fai fare la figura intera che lo sanno fare o ti fai aiutare ecco noi siamo in una associazione di consulenti quindi ovviamente spingiamo per questa soluzione però effettivamente ci sono delle opportunità che le aziende farebbero bene accogliere perché non trovarsi cioè trovarsi in una condizione di mercato anche favorevole ma impreparati può portare a altri epic fail come dicevamo prima se posso aggiungere Giovanni per enfatizzare e aumentare il valore del tuo accordo cioè quando per esempio io andavo in giro per il mondo stavo via cioè voi fate conto che ai tempi miei perché io sono un immigrato digitale quindi internet nei tempi d'oro non c'era quindi si andava negli alberghi e si scriveva sul report pagine gialle cioè si andava a prendere le pagine gialle negli alberghi strappavi le pagine del settore mercologico che servivano per avere informazione io per esempio quando tornavo dai miei viaggi avevo la persona che era la mia assistente diciamo questa parola per far capire il ruolo ma era per me era la venditrice interna perché io per esempio ho fatto uno dei primi corsi se non l'unico in Italia in cui c'era la figura dell'export office manager cioè un supervisore interno cosa succedeva? succedeva che io tornavo da un viaggio parlavo con Giovanni e con Mirko con Marco per esempio mi mettevo ci sedevamo in una stanza e dicevo allora guarda Paola io ho parlato con Giovanni con queste caratteristiche gli ho detto questo, questo e questo e pure questo se noi proviamo ad aumentare le competenze di Paola Paola avrà un rapporto sempre più grande con Giovanni e quindi in realtà permetterà di avere maggiori informazioni nel tempo che l'area manager non riesce perché non ha questo contatto e questo voglio praticamente rispondere anche a una domanda mi collega una domanda che ci ha fatto Mariella Sole cioè ci sono 220 anche se sono di più i mercati dove non andare? allora la cosa è molto semplice bisogna volare bassi perché in tutto il mondo non c'è un'azienda che sia in grado di esportare in tutti i paesi del mondo non lo può fare la Coca Cola non lo fanno le grandi multinazionali per cui quando io vado ad un'azienda che mi sento dire ah ma noi esportiamo in tutto il mondo là già sarebbe da fare un po' di formazione perché tu puoi esportare magari ai 5 clienti, nei 5 continenti ma non puoi essere presente su tutti i tuoi 140 mercati allora se proviamo a fare una formazione di base molto semplice i primi libri di marketing ci dicono tu non puoi andare ovunque perché il prodotto deve essere sempre disponibile nei mercati allora prova a fare una riflessione se sei una piccola azienda prendi il tuo prodotto e cerca di capire in quale mercato praticamente lo puoi prendere ovviamente l'aiuto delle competenze ci permette di dire che vendere in un mercato europeo diventa molto più facile se io voglio andare fuori dall'Unione Europea in quei paesi dove ho un contratto un accordo di origine preferenziale mi permette di abbattere il Dazio quindi sicuramente posso fare su questo ma la mania di espansione deve essere un po' frenata soprattutto nelle piccole o micro imprese perché non ci riesce dopodiché non ha senso andare in Russia perché tutti dobbiamo andare in Russia non c'è un decreto legge che dice oh vai domani in Russia e non ci va più per cui proviamo a ipotizzare quattro semplici strategie prima strategia individuare i mercati dove il tuo prodotto entra con facilità seconda strategia nei mercati dove sei presente prova ad aumentare i nuovi prodotti così impari a capire come sviluppare i mercati perché dare l'agenzia ad un agente l'esclusivo si di quei danni che mette abbastano per ogni segmentale in diversi modi terza strategia i tuoi prodotti dei primi due nel terzo canto nei nuovi mercati e quindi già fare questo vuol dire che impari a crescere impari a misurare i tuoi lavori la quarta strategia solo per informazioni anche la più rischiosa prodotti specifici per mercati specifici Siete? Sì, ok Grazie Saverio Sono tutti aperti per tutti Ok Fatemi ringraziare Saverio e Giovanni innanzitutto perché questo seminario lo archiviamo nella serie Lectio Magistralis così siamo assolutamente pregevole quindi se ci sono domande grazie a tutti io sono un rapido passaggio sugli eventi della settimana che è rapidissimo perché bisogna anche fare c'è una notizia freschissima che è arrivata questa settimana che deve farci riflettere noi ma soprattutto le aziende a cui ci rivolgiamo cioè è un comunicato stampa che ha fatto oggi S4 Planning l'Italia sta perdendo quote di mercato più di altri paesi quindi questo è il commento che c'è da fare su questa situazione tutti questi discorsi di organizzazione delle aziende impattano sempre sulla realtà che abbiamo solo 135.000 aziende esportatrici quindi serve serve comunque che noi per primi ci diamo da fare con le aziende facendo capire che non è il nostro interesse essere ingaggiati come sport manager è il loro interesse strutturarsi per fare il lavoro sul sedio tutte all'interno dei commenti fatti durante la conferenza sono sostanzialmente a livello industriale si chiamano scelte di make or buy o me lo faccio in casa o lo compro fuori ok ora non è possibile avere in casa una competenza che fa tutto il digitale l'esport il finanziario e le altre cose a meno che non sei una corporation per cui ci sta tutto in qualche modo e adesso tra l'altro i soldi alle aziende gli li danno voglio dire non c'è nessuna ragione perché non non si sviluppi un'azione di strutturazione per l'estero non solo di vendita ecco quindi tutti questi aspetti che abbiamo trattato sono il cuore che ogni azienda dovrebbe 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 seguire sì questo è importante in effetti ne parlavamo anche in altri eventi le aziende ora come ora forse stanno vivendo questa difficoltà di agire e pagano anche il pegno di non essersi attrezzate prima e all'aumentare della complessità si trovano un po' spaesate e a volte desistono dall'andare verso l'estero o non si attrezzano per continuamente aggiornarsi su quelle che sono le problematiche di estero questo le porta a perdere quote di mercato tant'è vero che abbiamo visto negli ultimi anni ogni anno ci sono meno aziende esportatrici c'era ci sono state un po' di segnalazioni su vari posti come LinkedIn delle segnalazioni su quante sono le quote di export per classi di fatturato noi dobbiamo cercare di convincere le aziende a fare la loro parte perché contrastare questa cosa e strutturarsi per andare sull'estero autonomamente o con libri professionisti esterni è assolutamente una carta necessaria ancora più oggi che ci sono incentivi per andare sull'estero e dall'altra parte le quote di vendite sul mercato italiano si stanno contraendo quindi sfruttare l'opportunità per fare di necessità virtù e andare verso i mercati esteri quindi recuperare parte di fatturato dai mercati esteri visto che tanto gli stranieri cercano comunque di entrare sul mercato italiano almeno non si contrasta questa cosa altre novità da segnalare Giuseppe ah non ti sento più sei muto di nuovo in realtà ce ne sono tante perché poi questa settimana è stata da oggi anzi in teoria parte l'aumento degli incentivi degli incentivi Sace insomma come volume quindi c'è la fila sul portale Sace stamattina addirittura è crollato per certi momenti non ci si poteva neanche collegare e attenzione perché è vero che c'è una valanga di soldi un milione e quattrocento un miliardo e quattrocento milioni è altrettanto vero che essendo che è stata aperta la offerta di finanziamento a favore delle aziende più grandi questi soldi andranno via rapidamente per cui meglio che chi ha intenzione di avvalersene si muovesse subito altro che agosto infatti quantomeno pensare al mese di agosto per farsi un'idea di che cosa si vuole fare a settembre perché comunque anche io sto invitando a presentare la domanda a settembre prima possibile si avrebbe come venire Lorenzo no prima c'è Alessandro ah Alessandro si eccomi qua io parto da una cosa che ha detto prima Saverio e anzi prima un complimento va bene non è cartazzo di benevolenza ma concordo con quello che ha detto Giuseppe di mettere questa lezione nelle lezioni magistrali per entrambi gli interventi una cosa che diceva Saverio io parlo dal lato diciamo commerciale essendo di fatto un abituato sono quello che va a vendere per capirci se io sono su un aereo che vado non so dove era in Kenya o giù di lì nel frattempo chiamo il direttore amministrativo per chiedergli ti informi con la banca per sapere come si fa la lettera di credito per il Kenya o se chiamo il responsabile legale per chiedergli ti informi per le cose legali prego ciao sono occupato allora forse non era rivolta a me dicevo se chiamo un'altra funzione per chiedergli questo in un mondo ideale mi dicono certo stiamo remando tutti nella stessa barca quindi io faccio la mia parte nel mondo reale quindi non in quello ideale è molto probabile che loro mi dicano e che palle questo vuole andare anche in Kenya e mi rompe le scatole a me che già ho da fare il mio già ho le mie cose come si conciliano le due cose è vero che io dovrei in primis coinvolgere i miei colleghi coinvolgere la direzione che poi dovrebbe coinvolgere i colleghi ma ripeto tra il mondo ideale e il mondo reale ci trovo un po' di distanza in questo questa è la domanda come si coinvolge chi non è direttamente interessato all'export a fare a venirmi dietro detta male ma insomma ci siamo capiti chiudo qua posso? vai vai Severio allora effettivamente mi sono scontrato su queste cose diverse volte però la soluzione che io prospetto ovviamente io la trovo dalla mia organizzazione mentale perché quando vado a parlare con qualche cliente perché anche adesso per conto di qualche azienda vado a vendere no? oppure faccio una telefonata o qualcosa cosa è che in pratica manca o vedo negli ex colleghi o nei ragazzi dati da su è il fatto che quando si instaura una conversazione tutto è basato sulla figura allora 30 secondi io imposto il lavoro così mio nome è Saveri Aprile e ho questo job title perché parto dai job title perché i job title all'interno dell'azienda sono cose misteriose perché io odio le lettere in cui Anna export department no perché Anna non è l'ufficio ma è una componente ma quando noi parliamo con dei clienti allora dico io sono il venditore sono un area manager io seguo questi 10 mercati o 13 mercati quindi è probabile che io sarò su un aereo sarò sarò occupato per fusi orari per altre cose eccetera ma io quello che faccio preparare e quindi per me è fondamentale è l'executive summary cioè io porto o digitale o cartaceo per dire i miei collaboratori nel nostro export department ci sono queste figure c'è Giovanni c'è Paola c'è Anna c'è Barbara che fa questo quindi molto probabilmente tu sarai contattato per un problema di customer care da questa persona io te lo lascio perché tu devi abituarti in qualche modo a ragionare questo se è un'azienda abbastanza strutturata se è un'azienda meno strutturata potremmo dire che Paola è la persona che lavora nel mio team e che in mia assenza o in mia non disponibilità c'è questo ponte perché io dico e questo l'ho scritto anche nei miei libri o in articoli che trovate sulla rete perché io sono convinto che l'export department almeno una volta a settimana deve chiudersi in una stanza e fare il comitato di redazione cioè scambiarsi le esperienze scambiarsi le opinioni in modo tale che quando il cliente sente chiamate da Paola non è una novità ma è qualcosa che è stato già avvisato perché l'azienda è fatta di valore e quando poi Paola parla col cliente in realtà che cosa fa? Mi aggiorna e io posso intervenire a secondo del problema dire so che la mia collega ti ha chiamato oppure non ti ha chiamato eccetera cioè si tratta di cominciare a delegare vedo che qualcuno sta cominciando a lasciare era Lorenza che voleva fare un intervento ah bene io ho finito sì 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 Lorenzo puoi aprire no mi sa che sembrava che doveva andare posso parlare? vai 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 allora grazie Saverio e grazie Giovanni degli interventi Saverio comunque non buttarti così giù 42 anni di esperienza sta tornando post al market quindi alla fine sono eterni ritorni eterni ritorni io ci sono dopo post al market lo aspettavo volevo farvi volevo farvi una provocazione è difficilissimo è difficilissimo resistere come consulente dentro un'azienda è difficilissimo come dici tu riuscire a convincere il decisore finale di delegare di lasciare di lasciare la delega di lasciare spazio qualcun altro siete proprio sicuri che il nostro compito è quello di fare formazione e non invece quello di correre da soli per ottenere risultati positivi e guadagnare una fiducia più che sulla formazione condivisa su dei risultati concreti per prolungare il rapporto di consulenza perché due cose insieme si fa fatica a fare non puoi fare formazione e risultati io credo per la tipologia di aziende che vedo che bisogna correre chiaramente con i ritmi che sono consentiti i mercati ogni mercato è diverso ma piuttosto che insistere e infastidire la bestia fai due fatiche alla fine conviene magari lavorare più slegati magari usare le risorse dell'azienda perché altrimenti ripeto spendi tempo nel formare l'imprenditore non vede i risultati dopo sei mesi ti saluta provo a rispondere io poi dopo sarò raggiunto allora sono molto d'accordo con questo con questo dubbio anche io ho questo dubbio spesso ma corro o cerco di accompagnarli io dico che nei progetti che segui parallelo anche per mia personale organizzazione cerco un mix che non è sempre facile da trovare ma cerco di avere un mio mix quindi in parallelo avere i progetti dove io corro vado 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 e cerco di essere anche particolarmente autonomo cerco libertà d'azione cerco sì armi da poter usare io prima persona e in parallelo seguire i progetti dove è proprio più un accompagnamento un tutoring sono abbastanza d'accordo che deve essere proprio un durante l'uno o proprio un durante l'altro io la vedo così perché altrimenti come dici tu è facile che tu hai fatto un grande lavoro di formazione coinvolgimento crescimento della consapevolezza gli fai conoscere strumenti situazioni attualità però poi dopo arriva uno che dice sì ma non hai fatto un cavolo ciao arrivederci questo è un rischio che corriamo tutti che io prima parlavamo non viene sempre tutto bene c'è bella senza buco capitano a tutti e quindi dico è un bel dilemma io cerco di tenermi il mio personale suggerimento operativo è ho un parallelo un po' di progetti che sono soprattutto di accompagnamento e dei progetti che sono soprattutto di corsa di solitario se i progetti con chi si lavora più con uno non si può fare l'altro nel senso che il tema è quel tipo di azienda che cosa richiede di più quella che si vuole vuole delegare e vuole vedere forse anche i risultati subito in realtà non vuole mettersi sporcarsi le mani a imparare quindi ti dà la pagnotta e dici adesso mi trovi mi gestisci mi esporti c'è quella che invece apprezza il fatto di essere formata anche per capire per sua cultura interna tutto quello che c'è dietro quindi per avere un po' più il polso dell'attività che viene fatta però l'uno non va tanto a braccetto con l'altro non puoi farli entrambi insieme l'avevamo visto anche in altri interventi perché noi dobbiamo convincere le nostre aziende su cui già lavoriamo come export manager a fare formazione diventa un po' più complicato io passo giusto su una roba io dico sempre questo l'export manager deve lavorare a progetto perché altrimenti mi assumi mentre le risorse rimangono all'interno dell'azienda quindi se io vado via e mi porto via tutto qui in realtà sei appunto da zero e non gli trasferisco la mia esperienza il mio know-how il mio modo di lavorare eccetera quindi è normale che certe cose posso farlo allora però preferisco fare delle cose anche perché per esperienza ci sono delle risorse all'interno dell'azienda che non gli può fregare nemmeno come dicono al testaccio e quindi la colpa è sempre del consulente quindi la risposta è anche un po' mediare è vero che puoi fare dei progetti in autonomia dove magari segui dei mercati dove però segui anche degli affiancamenti tutto nasce secondo me dal fatto da che tipo di progetto prepari prima perché io di solito faccio sempre un audit sia formativo che consulenziale metto giù un progetto dettagliato me lo approvi e poi andiamo avanti però con l'impegno che dopo ogni 15 giorni ipoteticamente ci rivediamo per vedere come stanno andando le cose sì e poi necessariamente la scelta è bionivoca perché anche noi come aziende prima di prendere un'azienda dobbiamo aver chiaro che tipo di collaborazione abbiamo dall'azienda perché l'azienda con le persone leggevo prima nella chat un po' invidiose o che possono dare poco supporto avremo ben poca possibilità di fare risultati perché se non c'è la collaborazione quello che dicevamo negli interventi di oggi di tutta la struttura aziendale e poco se non c'è il supporto dell'amministrazione che ti fa i documenti non vai da nessuna parte se non c'è disponibilità del magazzino che ti fa preparare la merce come si deve non vai da nessuna parte quindi tu devi avere se la dirigenza non ti dà delle risposte per tempo non vai da nessuna parte quindi devi avere per prendere un'azienda devi già sapere che in realtà è aperta mentalmente a quello che c'è da fare se non c'è lavorare nel primo scenario quello di fare il consulente estero quindi non parlo della formazione parlo della città di export diretto non puoi farlo fondamentalmente senza il supporto dell'azienda nel suo insieme al di là delle che vuol dire quindi più persone più figure professionali più persone nello specifico che devono essere coinvolte ti devono dare risposte per tempo e adeguatamente perché anche il per tempo non è una componente da poco ci sono le dirette che rispondono dopo due settimane dopo due settimane quelli hanno già lavorato con tre ordini dalla Cina quindi non si riesce la va bene volevo aggiungere una cosa che allora diciamo le istituzioni non sempre ci aiutano però andando proprio sul pratico mi viene invece da citare un caso dove le istituzioni invece hanno sono state di aiuto il mese scorso ho emesso qualche offerta non tantissima qualche offerta per un bando organizzato da Unione Camera Emilia Romagna questo bando prevedeva diversi tipi di azioni in alcune di queste offerte in un paio di offerte io mi sono proposto con quattro diverse azioni una era formazione digitale no assessment formazione digitale supporto per incontri B2B e diciamo attività term classico questo diciamo sforzo anche da parte mia di andare a spacchettare capire quanto valeva uno quanto valeva l'altro invece che fare una sola riga e un prezzo finale in realtà cioè aiuta questo perché comunque andare a individuare un valore dare un valore a quelle azioni fa capire ancora meglio all'impresa quanto vale quello che tu stai facendo cioè quanto tempo tu dedichi a fare una cosa quando tu entri magari quel giorno entri per fare formazione o entri per fare supporto per la vendita o entri per fare un'indagine sullo stato operato dell'azienda quindi a volte ci sono anche c'è la burocrazia paradossalmente che a volte ci aiuta e quindi infatti mi sono chiesto in queste settimane se continuare ad avere questo grado di dettaglio nel mettere le offerte giusto per anche far capire meglio le imprese quanto vale un singolo pezzo del mio intervento ci stai ancora meditando se lo sforzo non sono ancora convinto però quando diciamo obbligatorio o forzatamente conveniente per questioni di graduatori di Umbando ovviamente lo faccio ma non è stato facile perché poi dopo lì bisogna andare a citare costo orario quante ore per ogni singola azione diciamo che in alcuni casi sono proprio delle vere stime però questo esercizio anche poi nello spiegare e raccontarlo ai clienti barra potenziali clienti è qualcosa che ci aiuterà ecco io penso che ci verrà utile in futuro nel capire come dare peso ai risultati raggiunti di una o l'altra attività è un bello spacchettamento che ti torna comodo per dopo perché in realtà mostra una maggiore ampiezza di quello che puoi fare perché è l'unione di tanti tanti pezzi e tu in realtà ognuno di questi è un'attività a sé in realtà e quindi è acquisibile esatto per semplicità penso che lo facciate quasi tutti magari cerchiamo di semplificare offerte fatture contratti però in questo frangente la burocrazia un po' ci viene in conto perché a volte appunto non diceva potevi formarvi di più io te l'avevo detto quante ore ti facevo di formazione oppure potevi dedicare più tempo a fare il tempo ma io te l'ho detto quanto l'avrei fatto te l'ho anche scritto e quindi vabbè chiediamo sempre quanto la burocrazia una volta qualcosa a favore allora se no ci sono altri interventi abbiamo sforato le 18.30 il 6 di agosto devo dire che con il collegamento Marco dal mare che lo ringraziamo perché ci ha aiutato la regia anche dal mare puoi andare a fare un bel aperitivo in spiaggia adesso aspettiamo la sorpresa della settimana prossima ok dai Giovanni la riceverete nei prossimi giorni qualcuno lo riceverà in agosto qualcuno lo riceverà magari dopo però abbiamo segnalato sulla newsletter di un export manager e riceverete informazioni che abbiamo intrapreso l'azione di mappatura delle competenze degli associati competenze sia in ambito formazione finanziata e non sia in ambito professionale quindi l'ambito in cui possiamo andare a offrire dei servizi alle aziende quindi per per mercologico per varia geografica per tipo di attività digitale tradizionale fiere qualunque cosa sia la pertinenza delle nostre attività come libri professionisti ma almeno degli associati un export manager e quindi qualcuno ha già mandato le informazioni già a suo tempo chi non l'ha ancora fatto è evitato a compilare il modulo e chi non ce l'avesse ce lo può chiedere al team a me direttamente su LinkedIn poi vi manderò il link di dove è la cartella con il form da compilare questo ci servirà per avere un quadro generale una mappatura proprio dei nostri associati comprendere come intervenire laddove ci riceviamo richieste riceveremo richieste da aziende da imprenditori da persone interessate ai nostri servizi e quindi come muoverci al meglio in questo ambito al pari per gli enti che volessero avere formazione vi parlo soprattutto per la formazione finanziata ma per le imprese che lo volessero sul servizio pagamento potrà essere ugualmente possibile per interventi su argomenti che sono di competenza nostra come Expro Manager abbiamo visto che il ventaglio di competenze all'interno della nostra attività è molto ampio quindi chiunque voglia riportarsi voglia rendersi disponibili con le sue attività alle imprese o perché vogliono formazione o servizi può farlo attraverso questo strumento che abbiamo messo in piedi se non ci sono altre domande io direi che per oggi è tutto e ci vediamo con il prossimo intervento che sarà molto informale grazie continueremo dalla spiaggia io continuerò dalla spiaggia bravo ok ciao a tutti grazie mille bravo ciao arrivederci grazie a tutti ottimi interventi ancora grazie a Saverio e Giovanni bravi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti